finisce con una vittoria per la Sampdoria la partita di ieri contro la Lazio partita di serie A ovviamente Samp Lazio, si gioca questa partita in casa della Samp in Liguria la Lazio annebbiata, scioccata, deluso, affranta non riesce a fare i gol una Lazio impotente, una Lazio secondo me spompa che non riesce a garantirsi un risultato nel benimpaginato mondo calcistico a segnare ieri nella partita da Samp Lazio per la Samp ovviamente Fabio Guagliarella al 32esimo minuto Tommaso Augello al 41esimo ed infine Mikkel Damsgaard al 74esimo minuto di gioco una Samp che di fatto è riuscita a ottenere questa vittoria piacevole una Samp forte, una Samp che si è imposta in maniera diretta e non ha avuto problemi nel vincere questa partita che in maniera autentica si è celebrata e che ha visto questa angelicota vittoria proprio da parte della Samp nei confronti della Lazio una Lazio spenta, opaca che viene riuscita a raggiungere un risultato positivo vi ringrazio, vi ringrazio per l'ascolto il video termina qua iscrivetevi se vi va, commentate un saluto caro italiano e un naruto italiano grazie